Bentornati fratelli di tuberanza in un nuovo episodio su Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Ed esattamente come abbiamo fatto con i contenuti di Demoslayer Eccoci di nuovo su un gioco a tema anime Stiamo lavorando anche su altri giochi, ovviamente scusate, in collaborazione e in compagnia di Joseph the Gamer What do you do? Bro mi stavo perdendo, stavo in collaborazione, che cazzo non sto dicendo Ecco, l'ho fatto io il gioco, capito? Oh no! 64 chiusure, ovviamente ragazzi io parto con il mio personaggio preferito Ah, il tuo preferito? Neshi Yuga si è il mio preferito Ma perché sulla mia schermata c'è ancora tutto questo? C'è tutto questo cosa? Ah il tipo, tipo sporco? Eh, si ma non lo so Non lo so perché Tipo il simboleggiare che ha buscato, non lo so Ma io non so se non lo scusare io, sto personaggio è probabile Bro, Rock Lee Ma sto buscando un botto Vai, 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 vai Boom Nooo, ma io credo praticamente E ho capito male io, Fra Ho capito tutto male io perché stavo guardando a sinistra il tuo personaggio Abituato a guardarmi sempre palesemente e continuamente a sinistra Ok Questo è successo Oh! Aia! Volevi? Allora Risveglio? Col cavolo! No! Si l'ho fatto! No, aperto le porte! Sei mio! No, le porte... No, bro, mi dissocio Sei mio? No Te le apro tutti i chakra, ti apro, vai! Rotazione suprema! No! Uuuuuh Devo ripararmi No! Uuuuh Goto Eccoci! Team! Let's go! No, però mi hai preso! Ma mattissimo! Ma è bellissimo sto fatto Non lo sai? Mi era passato di testa che quando tu hai determinati personaggi di supporto Ma spettacolo! Mamma mia, raga! Eh, questo è bello, Fra Questi, vedi, era già un primo accenno di quello che poi è diventato di Mosleyer, eh? Bravo! Bravo, esatto! De Mosleyer, ragazzi, non è altro che una versione migliorata di quello che già era Semi perfetto di Storm 4 Oh, 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 oh! Ma guarda quello come si para sempre, continuamente, non so come fa Rotazione suprema! Bravo, va bene, me la busco, questa me la devo tenere Volente o non volente Rotazione! No, ma non mi ci trovo con lui, purtroppo Con Rock Lee? Eh sì, scusami, con Guy? No, eh, con Guy, pensavo di sì No, niente Volevi! Mannaggia, mannaggia! Tienetelo occupato! No! Bravo, Clay! Astaccatelo! Astaccatelo! Astaccatelo, no! Bio Kugan! Arrivo! Ti ho lanciato il Shuriken, non so se abbiano avuto effetto meno No, Fra, mi hai fermato, bravo No! Eh, va bene Avevo la sostituzione, porca vacca! Bene così Sbaggiate Giuse! Non te l'aspettarvi, amico mio? No, bro Rotazione! Aia! Vado Vado come sono fermo? Mi stiamo studiando, ce la stiamo studiando Vai, sei mio! No! Uh, porta dello stupore! Apriti! Ma spettacolare! Madò! Bellino, bellino! Cunai di platino, mi sta sbloccando le cose che... Boh Ma che fa sto tuffo? Ma è bellissimo, è divertentissimo Porca miseria, Giuseppe, mi ci provo scassato Motoshfone, rotazione suprema! Ma quando ti conca teno la tua rotazione suprema 64 chiusure! Mannaggia, la miseria, mannaggia Pim, psim, psim, psim Eh, questo ha buscato tantissimo qua Eh, qua c'è un capezzo alla pelle Sì, bro, che ti volevi fare per caso il risveglio? Aio! Uh, una nuova te la sei beccata tu Potrei farlo pure il risveglio ma non ce la faccio in tempo Sapevo No, guarda lontano! Uh, palmi di... Eh, bro, eh, bro, eh, ne ci juga, brothers Ne ci juga, no, parla proprio Te la sei giocata bene, dai Bello, bello, bello Dobbiamo ricordarci ancora i tasti, però Eh, bro, quei tasti dobbiamo un attimo, raga, di prenderci di confidenza Adesso la rivincita, bro! Devo scegliere bene i personaggi Ebbene, caro Joseph È il momento che tu conosca La via dell'odio La via del terrore Oh, mamma mia Guarda questo, come è aggressivo? Ma? Mamma mia, ma subito te chiapavolo Ma che è? Io mando la gang Uh Eh, vedi? Non posso far più gli L2 Anche io ti mando la gang, vai No, bro, aia, la gang fa male Non vedevi niente, eh? Benissimo Madonna, ma questo cos'era, il... Maledetto Mannaggia Ma, ma, fra, ma c'ha Quello che è, lo Shirra Tensei Madonna, bro, che tu fa... Sì C'ha lo... Oh? Sì, vabbò, Giuseppe Se non me la stessi aspettando Mi avresti quasi fatto Scimbra Tensei Ma, no, buscano tutti e tre, le hai visti? No, io devo capir, ma io le combo, caldo Scimbra No, lo Shirra Tensei Devo, te lo dovrei ancora fare Uuuu Nooo Uuu, risveglio Maronna mi, Gesù Cree Bru, che bello Ma è spaziale tutto questo Vai Porco Porco Ma è fortissimo Bro, ma tu sei pazzo Bro, fermo Fermo Ma questo è mattissimo Fermo È mattissimo Aia Aia Oh, eh, fra, è troppo forte questo Oh, mamma mia Vado Eh, ma fa sempre la stessa mossa La volevo cambiare Ma se non fa sempre quella Ma mannaggia la morte Oh, è fortissimo, eh Da quando stavo buscando in una maniera totale Ho ribaltato, grazie al potere che ha Oh, oh, oh Oh, via, via, via No, tu hai capito sto fatto di tenermi lontano e vicino qua Eh Vado, 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 vado Tocca a me? No, bro Eh, se ti pare la fine Io mo sto utilizzando ogni tanto, capi? Ancora i tasti di cosola, come si chiama? Demon Slayer Eh, esatto, capi? Allora, più o meno non è che sono troppo diversi No, non sono tanto diversi Il problema è che, secondo me, giocando qui E tornando poi su Demon Slayer Eh Eh, sarà come ricominciare da capo Un mighty push, quello che ha Ah, ma in inglese Lo tengo selezionato Maronna mia Ma Che ti ricorda questa, brother? Eh, purtroppo mi ricorda Una situazione un po' spiacevole Non so Eh, vabbè, non mi ripiglio più Buonanotte Ah, io Vai, perfetto Eh, ma doi No, un'altra volta Lì sveglio Ottimo Sei mio Boom No, 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 no Eh, fra qua Vai sotto sopra, eh, te lo dico Sì, qua da capander Mi devo avvicinare un attimo Bene Spada ninja di bronzo Mi sta sbloccando le cose pazzesche comunque Bro, io devo No, bro No, bro Finito la sostituzione Sei mio Oh No Guarda quello No, fra, sono tornato normale Sì No Andiamo La stessa fine Di quell'eremità di merda No, si scherza No, no No, si scherza, bro Però era per rimanere nel personaggio Ma Va, comunque, fra, il gioco è spettacolare Bello, bello Sai, me lo ricordavo spettacolare Però di giocarlo a distanza di anni Mi sconfì Allora Il problema Sai qual è, Giuseppe? È che Graficamente Non avrebbe un potenziale infinito Purtroppo, però Essendo un gioco vecchio Non sfrutta tutto il potenziale Come, appunto, Demoslayer Bro, ma tu ti immagini Sti incontri a 60 fps Come Demoslayer? Sì, proprio graficamente Io forse credo su PC, bro Non so se già di base Con qualche mod Può arrivare a dei livelli altissimi, eh Potrebbe Potrebbe Eh, oh Raga Allora Io spero Che questo video E questo grande ritorno Su Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Sia stato Di vostro gradimento Purtroppo Molti personaggi Non li ho sbloccati Perché il salvataggio Non sembra valido E avevo Ho platinato il gioco E ho il trofeo Ma i personaggi Non ce l'ho, Giuseppe Eh, si è corrotto il salvataggio Fra, sicuramente Non si sa Non c'è altra soluzione Per questo episodio è veramente tutto Noi ci vediamo con i prossimi video Sempre solo qui Con Joseph the Gamer Ciao 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 Grazie per la visione